Una riconversione di una discarica che altrimenti sarebbe un terreno improduttivo in impianto fotovoltaico. Questa è l'idea di Air Ambiente e Cop Sole, inaugurato l'impianto fotovoltaico di Bosco dell'Impero a Ravenna. 4.350 pannelli fotovoltaici su un'area di 2,5 ettari che produrranno una potenza capace di soddisfare il fabbisogno annuale di circa 500 famiglie. È stata un'idea di Air Ambiente che nasce anche da sollecitazioni che provengono dagli enti, in particolare dalla Regione, e dall'avere verificato che utilizzare i siti di discarica esaurita per realizzare impianti fotovoltaici rappresenta un'opportunità con molti elementi positivi. Intanto utilizziamo un sito che non potrebbe essere destinato ad altre funzioni, anzi, li restituiamo una funzione produttiva. Dopo anni in cui ha rappresentato lo spazio, il luogo dove smaltire i rifiuti urbani prodotti da Ravenna e dal suo territorio, ora questo spazio torna ad avere una funzione produttiva producendo energia rinnovabile. In secondo luogo, occupando questo sito, si risparmiano altre aree che potrebbero avere un maggior pregio dal punto di vista ambientale o altri utilizzi, come per esempio aree agricole. La potenzialità dell'impianto è una potenzialità che è quasi un megawatt, 998 kilowattora. Avrà una produzione annua di circa 1.250.000 kilowattora, 1.300.000, come il fabbisogno circa di 500 famiglie. L'impianto è composto da 4.350 pannelli e sono messi sui sommità della discarica nella parte perimetrale, perché la parte centrale è ancora poco stabile della discarica.